Stamattina abbiamo presentato il libro che abbiamo realizzato insieme a Italia Nostra, al Forum della Cultura, con i figli delle Chiancarelle, che è Salerno Cosa Ci Resta, che è la raccolta dei sette incontri che abbiamo tenuto lo scorso anno all'Archivio di Stato, incontri che hanno riguardato vari aspetti della città di Salerno negli ultimi 25 anni. Abbiamo analizzato i problemi legati al mare, legati al porto, legati al paesaggio, legati all'urbanistica, legati alle scelte culturali. Abbiamo lasciato un prodotto editoriale che vuole essere una ricostruzione diversa da quella che viene normalmente propagandata dal sindaco De Luca e da chi amministra per conto terzi, come è il caso specifico, l'attuale sindaco di Salerno. A noi ci resta la voglia di continuare a lottare, come dice Tommaso Montanari, che fa la prefazione di questo libro. La voglia di lottare e di migliorare questa città, anche purtroppo negli ultimi 25 anni ha subito una devastazione e una speculazione di inizio impressionante. I punti strategici, le scelte strategiche sono state il più delle volte sbagliate. Basta vedere ancora oggi il porto di Salerno, dove convivono due anime, una di natura culturistica ricettiva e l'altra di natura assolutamente commerciale, quindi container, navi e industria fondamentalmente. Bene, in una città che è a cornice tra due costiere come la nostra, questa scelta non può più essere sostenuta. Bisogna capire definitivamente il porto, qual è la sua natura. E visto che abbiamo scoperto anche grazie al materiale accorto in questa documentazione che le scadenze commerciali scadono tutte nel 2020, sarebbe il caso anche su questo argomento di aprire un dibattito, perché la città ha bisogno di un futuro nuovo per il porto, che garantisca lavoro a tante famiglie e non alle poche che fino ad oggi hanno gestito quasi diciamo in maniera autonoma il porto. L'ente è diventato un ente pubblico, il porto non è più privatistico, per cui venendo nel dettaglio, ripeto, sono stati incontri che hanno dato un'ottima partecipazione, sono state oltre 500 persone che hanno partecipato, abbiamo stampato mille copie, vendiamo adesso queste copie per ricavare un contributo che permetterà di continuare altre azioni di cittadinanza tipica che portiamo avanti da anni insieme anche a Italia Nostra e che servono appunto per sostenere i ricorsi, le denunce, in una città dove spesso l'opposizione è latitante, assente e viene lasciata ai cittadini e alle singole associazioni il compito e l'onere di difendere e tutelare la città di Salerno. Grazie a tutti.